Falsa partenza dell'Avellino che all'Adriatico di Pescara si vede imporre il primo stop stagionare dai bianco-azzurri di Colombo. Gli abruzzesi, in attesa di inserire gli ultimi arrivati nel loro scacchiere, sono apparsi più tonici dal punto di vista fisico e pronti sotto l'aspetto tattico, malgrado un anomalo 4-3-3 con cupone sacrificato a destra di Lescano. Di contro il 3-4-3 di Taurino è ancora tutto da oleare e perfezionare negli uomini e nei sincronismi. Difficoltà evidenti che si sono palesate fin dai primi minuti con un atteggiamento fin troppo guardingo che, malgrado le sorprese di Zanandrea in difesa, preferito a Moretti a Uriletto, Casarini in mediana in luogo di Dall'Oio e guadagni per Di Gaudio, ha lasciato campo al Pescara. Malgrado ciò gli abruzzesi si sono nella prima frazione resi pericolosi soltanto con un tiro dal limite di Lescano, innescato, manco a farlo apposta, da un errore, uno dei tanti dei bianco-verdi in fase di impostazione. Per il resto, fatta eccezione per qualche puntata in attacco di guadagni, l'Avellino non è mai pervenuto seriamente dalla parte di Prizzari. Tutta un'altra musica quella suonata dai padroni di casa nella ripresa che si sono fatti subito vivi con Mora dal limite dell'aria. Il vero pericolo per Marcone però è arrivato al tredicesimo quando Ricciardi ha sbagliato un facile disimpegno spalancando la strada a Colai che per ricamare troppo la giocata ha graziato i bianco-verdi. Il sospiro di sollievo tuttavia è durato appena cinque minuti perché l'argentino Lescano, su angolo dalla sinistra, ha sovrastato Aia e fatto secco Marcone che nella circostanza è rimasto inchiodato sulla linea di porta. Vantaggio meritato per i padroni di casa è Avellino letteralmente in bambola che ha rischiato almeno tre volte di finire al tappeto in maniera definitiva anche se nel finale ha avuto un paio di sussulti d'orgoglio. Il primo è stato costruito sull'asse di Gaudio Murano ma Plizzari è stato monumentale e Micoschi-Sprecone. Il secondo è nato da un'azione personale di Canutè che si è bevuto mezza difesa ma non il portiere di casa capace di salvare con la sua parata la vittoria dei bianco-azzurri e far esultare il popolo abruzzese. È finita così con l'Avellino a testa bassa a salutare i 500 tifosi giunti all'Adriatico e il Pescara a far festa sotto la curva nord. Grazie a tutti.